Ciao ragazzi e benvenuti, oggi vi porteremo a tagliare i capelli con noi, ci siamo preparati, svegliati, abbiamo fatto colazione e adesso ci avviamo, la strada ha un po' di buche, ci avviamo dal barbiere, Mattia ancora sonno, vedete come sbaglia? Mi spettarà in nanti alla bocca. Siamo arrivati e andiamo. 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 Grazie a tutti.